Ciao a tutti ragazzi, Oda, Veggie e benvenuti su We Have Seen Siamo qui perché abbiamo raggiunto un nuovo traguardo, ovvero quello dei 200 iscritti e siamo qui per ringraziarvi Assolutamente ragazzi, siamo tornati dopo i 100 iscritti a ringraziarvi nuovamente perché stiamo crescendo insieme e stiamo crescendo molto bene tra l'altro Sì, We Have Seen appunto lo ricordiamo è questa famiglia che vogliamo creare insieme a voi perché non si tratta di un canale dove noi parliamo per il muro Noi vogliamo che questo sia un punto di confronto e quindi ci teniamo tantissimo che sia una cosa a doppio sfogo quindi noi parliamo di quello che sentiamo, il nostro metodo per raggiungervi è lo schermo Così arriviamo tranquillamente nelle vostre tasche e soprattutto nelle vostre teste perché vogliamo sapere voi che cosa ne pensate delle visioni che noi facciamo Esatto, quindi condividere tutti i pensieri e creare un punto di una community di scambio Di idee e quant'altro E quindi appunto questo video è semplicemente per chi ci segue già per un ringraziamento e per chi magari fosse un nuovo membro per sapere più o meno quello che vogliamo fare di questo progettino Sì, ormai lo sapete, la nostra routine, la sappiamo, è quella di andare al cinema facendo due video Un road, un road 2 che è l'andata verso il cinema, un post subito dopo la visione Che ha le prime impressioni A caldo, dopodiché il video serio seduti a questo tavolo con la nostra bene amata birra Esatto, dove analizzeremo più approfonditamente quello che è stato il film E poi finalmente potremmo, non solo cinema, facciamo anche anime e serie tv E soprattutto anche sfruttiamo molto le piattaforme che sono Netflix, Amazon Prime e queste cose qua Ma come se fate uno scroll veloce sulla storia dei nostri video vi renderete conto da soli Esatto, quindi siamo ormai a fine marzo, incomincerà aprile che vedrà molti contenuti caldi Tra l'altro poi per concludersi a fine aprile con Avengers Infinity War Quindi sarà un mese molto caldo, vi invitiamo a rimanere con noi Se già non l'avete fatto, quindi potete iscrivervi al canale E soprattutto suggerire ai vostri amici appassionati di cinema di raggiungerci E a dircela loro Esatto, anche iscriverle loro, così almeno allarghiamo sempre più la community E potremo fare poi il prossimo video di più di 300, si spera Speriamo di arrivarci in più in fretta possibile Questo vorrebbe dire tante persone in più con cui parlare di film, anime Sono molto molto felice di avere questo vostro feedback così alto ultimamente Perché finalmente stiamo raggiungendo il nostro scopo Sì esatto, si sta allargando sempre di più il nostro scambio di idee e opinioni E tante tante persone nuove Quindi salutiamo tutti i nuovi che sono arrivati in questo periodo Sempre grazie, il merito è soprattutto vostro E quindi noi vi diamo appuntamento ai prossimi video Mi raccomando, ripeto l'iscrizione al canale E come sempre in descrizione metteremo anche qui i link per i nostri canali social E quindi raccogliamo più persone possibili Spargete la voce che dobbiamo crescere tutti insieme Io vi do appuntamento al prossimo video Un saluto da Oda E un saluto da Belgi Un saluto da Oda Grazie a tutti.